Nella giornata di ieri alle ore 14 diversi bagnanti intenti a trascorrere una giornata di sole sulla litorale di Torre del Greco hanno assistito all'urto violento di un'imbarcazione a bella alla deriva sulla scogliera artificiale antistante l'idola Sirenetta. Raccolta la richiesta di soccorso alla guardia costiera di Torre del Greco al fine di assicurare il salvaggio di due diportisti, due sessantenni napoletani richiedeva l'intervento della motovedetta CP8190 della superiore direzione parittima di Napoli e nel contempo inviava immediatamente in zona il proprio battello prematico B66. Nel frattempo gli assistenti bagnanti dello stesso stabilimento balneare coordinati dalla guardia costiera raggiungevano il luogo del sinistro con il pattino di salvamento e si sinceravano delle buone condizioni di salute dei due malcapitati. Giunte sul posto le unità della guardia costiera mettevano in sicurezza l'unità dalle porte i due occupanti allontanandoli lentamente dalla scogliera e solo dopo aver verificato l'assenza di possibili vie d'acqua. L'imbarcazione sinistrata ormai in sicurezza veniva ascoltata verso il porto ritora annunziata per essere alata sotto gli occhi virigidi del personale d'ufficio circondaiale Marittimo Plontino intervenuto in loco per le dovute verifiche di rito. Si ribadisce che un'estate serena e sicura nasce da rispetto di poche ma essenziali regole. Si raccomanda a tutti i riportisti di effettuare dei controlli preventivi finalizzati a verificare l'autonomia del mezzo soprattutto dopo lunghi periodi di inattività controllando la presenza di combustibile a bordo adeguato alla navigazione da intraprendere. Che le condizioni meteorologiche siano assicurate e che a bordo vi siano dotazioni di sicurezza in corso di validità ovvero adeguate al numero di passeggeri trasportati. Si rammenta altresì l'importanza di non navigare troppo vicino alla costa soprattutto se in presenza di bagnanti ed in generale si intende fare appena ad un senso di prudenza che impone di procedere a velocità moderata restando sempre vigili e non sottovalutando situazioni apparentemente semplici.